Dal terreno all'ombra dell'hotel house continuano a emergere resti umani. Dopo l'ultima giornata di scavi da parte dei uomini della questura di Macerata, infatti, sono state trovate altre ossa nell'area adiacente a quello che ormai è noto come il Pozzo degli Orrori. Ieri sera, durante il collegamento in diretta con la trasmissione Chi l'ha visto, il dottore Innocenzi, dirigente della sezione anticrimine, ha confermato i nuovi ritrovamenti, aggiungendo che, tra gli ultimi reperti, ci sarebbe anche il frammento di un cranio. Verosimilmente, come già accennato nei giorni precedenti, i resti fanno riferimento a due cadaveri, uno dei quali di una persona in giovanissima età. Nell'area, dove si trovano un casolare abbandonato e un pozzo, erano state rinvenute nei giorni scorsi una cinquantina tra ossa e frammenti, probabilmente appartenenti a un adolescente e un bambino. La polizia scientifica dovrà cercare di identificare i resti in base al DNA. Tra le ipotesi, anche quello che uno dei cadaveri sia della quindicenne bengalese Kameimo Sammet, scomparsa ad Ancona nel 2010, le cui tracce si erano perse proprio all'hotel house. Sul ritrovamento delle ossa, indaga la squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore di Macerata, Rosanna Buccini, che ha aperto un fascicolo per omicidi e occultamento di cadavere. Le operazioni di scavo, da parte degli investigatori, sono proseguite anche nella giornata di oggi, e non saranno interrotte fino a quando, da quel terreno all'ombra dell'hotel house, continueranno ad emergere elementi utili alle indagini.